Alvia la nuova edizione di Energicamente, il progetto nazionale di Estra e Lega Ambiente di formazione digitale su innovazione energetica e consumo sostenibile. Iscrizioni aperte per le scuole di tutta Italia. Limita lo spreco, aiuta il mondo. Torna il progetto concorso per le scuole toscane, realizzato dall'ufficio scolastico regionale e consulta studenti, anche grazie a Estra, per riflettere sullo spreco alimentare. Il nuovo store di Estra, aperto a Firenze, in via Masaccio, in zona Campo di Marte, un nuovo negozio di prossimità per ricevere assistenza, consulenze e informazioni su tutte le offerte di Estra. Si estende la rete gas a San Gimignano. Centria, la società di distribuzione di Estra, investe 172.000 euro per realizzare altri 2.000 metri di rete e portare il metano ad agriturismi, punti ristoro e abitazioni. Centria, la società di distribuzione di Estra.